Amici, non smetto di sorridere, ho letto il comunicato stampa di Carlo Nordio, il neoministro della giustizia del governo Meloni, ha dato una battosta, la bastonata, dritta dritta proprio a cavallo dei denti agli oppositori di centrosinistra and company, quindi tutti quelli che si sono lamentati ieri, perché se avete osservato e l'avete vista in diretta se non l'avete osservato ve lo dico io, ieri hanno avuto il coraggio di dire che praticamente c'è un'età media troppo elevata dei componenti di governo, quindi le opposizioni, quelle che sono adesso le opposizioni, quindi PD, 5 Stelle e and company, hanno iniziato a dire che siete in sostanza dei vecchietti, il centrodestra dei vecchietti. Allora Carlo Nordio, che è il nuovo ministro, che non è sicuramente un ragazzino, è il nuovo ministro della giustizia, ha deciso di rispondere pubblicamente, come? Con una dichiarazione, con un comunicato stampa, che vi farò vedere adesso, ma un comunicato stampa dove gli addemoliti, secondo me si stanno nascondendo in bagno, nell'angolino del bagno dentro la doccia, e me li vedono i PD o i 5 Stelle che sono nell'angolino della doccia così chinati, per non farsi vedere con la luce spenta per risparmiare la corrente, perché veramente è una cosa, cioè gli ha dato una risposta che io fossi, io fossi uno di quelli che si ha lamentato, un parlamentare che si ha lamentato, dando dei vecchi al centrodestra, dei vecchietti al centrodestra, se io fossi uno di loro non avrei più coraggio di entrare in Parlamento e di guardare Nordio in faccia, perché l'anziano Nordio ha dato una risposta, gli ha dato una bastonata che manco il miglior giocatore di baseball al mondo avrebbe dato un'ammazzata così, quindi adesso se siete pronti ve lo faccio vedere, se siete curiosi ve lo faccio vedere, quindi pollicione, sapete che sto lanciando gli hashtag che è veramente divertente, quindi hashtag il cancelletto, scrivetelo, Carlo Nordio, cancelletto Carlo Nordio, se non sapete come farlo vi faccio vedere, però ormai dovreste saperlo fare, cancelletto Carlo Nordio, così così, aspettate che ve lo faccio vedere, è veramente stato, ha dato una risposta ragazzi che è impressionante ragazzi, quindi cancelletto Carlo Nordio e vi dirò, vi dirò cosa ha scritto nel comunicato stampa, ma è stato veramente Carlo Nordio, Nordio, vi state collegando, vi state collegando, bravi, gli ha dato una murata nei denti ragazzi che era il miglior pallavolista del mondo, oltre al ministro della giustizia, veramente una cosa incredibile, attenzione che proverò a girarvi e a farvi leggere l'hashtag, arrivo subito con l'hashtag qui, ok, eccoci qua, Carlo Nordio, quindi fate questo hashtag Carlo Nordio, lo vedete, hashtag Carlo Nordio, ok? Quindi fate tutti l'hashtag, ve lo lascio qua sotto, che è fondamentale l'hashtag, vediamo se vi vedo, ok? Dopodiché vi darò questa notizia facendovi leggere quello che ha scritto, leggeremo insieme quello che ha scritto, bravissimo Carlo Nordio, brava Carla, bravo Giuseppe, fatelo tutti così arriverà la notizia al neoministro della giustizia che ha tirato fuori veramente gli attributi, le palle se si può dire, perché non è stato assorbito ieri questa lamentela, dove in sostanza hanno dato dei vecchi a lui e ad altri parlamentari di centrodestra e dandogli una risposta a tono, un comunicato stampo che di fatto è una risposta pesantissima, veramente pesantissima che io fossi loro mi nasconderei, non uscirei più di casa e sicuramente non entrerei in Parlamento per rischiare di beccarmi, caro Nordio di fronte che mi guarda con una faccia come dire, ti ho distrutto, ti ho distrutto Pindino, ti ho distrutto, bravissimi, caro Nordio, fatelo tutti, fatelo tutti perché è stato veramente mitico, non lo conoscevo personalmente, non lo conoscevo a livello politico, però ho visto che sicuramente è uno che ha le palle perché è uno che risponde in questo modo, adesso vi farò vedere perché ha le palle. Guardate ora l'anziano cosa risponde ai politici giovanotti che hanno detto 5 stelle, pidini vari, che si sono lamentati per l'età media troppo elevata secondo loro, guardate cosa risponde un tra virgolette vecchietto vero caro Nordio, allora aspettate che giro nuovamente lo schermo, perdonatemi se no non vedete un cavolo, non vedete un cavolo, ok eccoci qua, ve lo leggo però, dichiarazione del ministro della giustizia caro Nordio comunicato stampa, Roma 27 settembre 2022, ieri ho sentito in Senato una lamentela sull'età media dei componenti del governo, in effetti non credo che la saggezza coincida con la vecchiaia perché una persona 40 anni come diceva Marco Aurelio ha visto tutto ciò che è, che è stato e che sarà, ricordo tuttavia che il giovane Napoleone fu sconfitto in Russia da Kutuzov a Waterloo, da Von Boucher, non so come si chiama, che avevano il doppio della sua età e che Churchill celebrò la vittoria su Hitler all'età che ho io ora, così il ministro della giustizia Carlo Nordio ha dato una murata galattica ragazzi, una murata galattica a quelli che si sono lamentati per l'età. Ministro, ministro, la stimo, non la conosco però con questa risposta ha dimostrato che ha sicuramente gli attributi e chi si è lamentato per l'età troppo vecchia, tra parentesi, tra parentesi, dobbiamo rispettare i genitori e i nonni e non possiamo permetterci di dire a una persona di 70 anni, 60, 80, 90 anche, sei vecchio, al limite anziano e l'anzianità molte volte, anzi sempre, è esperienza, esperienza. Quindi prima di dire queste cose quei deputatini lì o parlamentarini lì, senatorini, giovani che hanno detto questo dovrebbero vergognarsi, andare a casa, chiedere scusa ai nonni, chiedere scusa ai genitori perché sono persone anziane e la persona anziana serve sempre, perché se non fosse per i nostri nonni l'Italia sarebbe già fallita, se non fosse stato per i nostri nonni, per quello che ci hanno lasciato, le case che ci hanno lasciato, saremmo già falliti. Quindi si vergognano quelli che hanno detto che il Parlamento è troppo vecchio, sì, ci sono magari, potrebbero essere qualche giovane in più, ma i giovani senza gli anziani non fanno niente senza l'esperienza degli anziani, quindi si devono vergognare e questo intervento del Ministro della Giustizia, del nuovo Ministro Carlo Nordio, che li ha demoliti, fa capire che, altro che anziano, queste due palle così. Ciao a tutti, buona serata, bellissimo, bellissimo, complimenti al nuovo Ministro della Giustizia Carlo Nordio, complimenti Ministro.